Rotary Club, concerto di beneficenza dal titolo Coralmente Rotary, con raccolta fondi per il progetto End Polio Now, per eliminare in 5 anni la poliomielite nel mondo. Importante evento ad Isernia, presidente che rientra in un contesto di festeggiamenti. Di cosa si tratta? Il Rotary compie 110 anni. Organizza questa manifestazione contemporaneamente nei 64 club del nostro distretto. Organizza questa manifestazione musicale intitolata Coralmente Rotary. Viene organizzata fondamentalmente anche per raccogliere fondi a favore del progetto principe che il Rotary sostiene. Quello dell'eradicazione totale della poliomielite nel mondo. È un obiettivo che l'abbiamo quasi raggiunto. Mancano 5-6 nazioni che per motivi religiosi e per motivi politici ancora non riusciamo ad intervenire in maniera integrale. È una manifestazione dove intervengono attori, musicisti, cabarettisti, scuole di danza e scuole didattiche con la sezione musicale. Ha aderito al nostro sodalizio gratuitamente. La manifestazione si terrà il 22 febbraio alle 16 all'auditorium di Isernia Unità d'Italia.